Muore a 55 anni nella cella del carcere di massima sicurezza sul Mona. La tragedia è capitata a un detenuto originario di Roma, ristretto nel penitenziario Peligno, colto nel primo pomeriggio di ieri da un malore improvviso. Erano circa le 14 quando l'uomo si sarebbe sentito male nella sua stanza di pernottamento. Dal carcere avvertili segnali di malessere hanno immediatamente allertato il centralino di emergenza del 118. Il personale sanitario operante ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione fino all'arrivo dell'ambulanza. Purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani poiché il detenuto è spirato poco dopo. Da quando si apprende l'uomo soffriva di qualche patologia, anche se la morte risulta apparentemente spiegabile. Sulle circostanze del decesso legate a un arresto cardiaco come accertato dal 118 della ricognizione cadaverica si svolgeranno tutte le verifiche, tant'è che la procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un fascicolo di inchiesta, ha disposto l'autopsia che si svolgerà nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il magistrato non vuole lasciare nulla al caso, soprattutto in merito allo svolgimento dei soccorsi e alla somministrazione delle cure. La tragedia ha provocato qualche tensione tra la popolazione carceraria, legata verosimilmente alla concitazione del momento.